Ceramica attica nelle nostre case? Si può! Questa è arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per te Eh sì, io scherzo, ceramica attica, ceramica attica, ma quale ceramica attica? Ma neanche l'ombra della ceramica attica Sono dei semplici sottovaso da poco più di 60 centesimi Che ho decorato a mo' di ceramica attica Dando un fondo nero e tirando fuori il colore del cotto Poi il tutto verniciato O con resina o con vernidas Insomma, un lavoro adattissimo per l'estate Rilassante da morire Con un effetto strepitoso Che vi potrà far risparmiare un bel po' di soldini Perché queste sono idee regalo carinissime Durante il periodo estivo Per esempio veniamo invitati a cena Portiamo un set di quattro di questi piattini Come sotto bicchieri O svuotatasche O insomma, quello che vi pare È un cadeau che volete dare Fatto con le vostre mani Andiamo di là e andiamo a vedere Il nostro piattino in ceramica attica Come si fa Ed ecco l'occorrente per fare Il nostro piattino In finta ceramica attica Diciamo che è un escamotage decorativo Per creare dei piatti che abbiano un bel contrasto nero cotto Una creazione più o meno di questo genere Adesso vi spiegherò i due modi per poterla realizzare Ci occorrerà della china Un sottovaso di questi in terracotta Preso al brico per 60 centesimi Un pennello da poco conto Ora, se volete fare i periziosi e i bravi Come ho fatto con questo Graffierete tutta la china dal sottovaso Con il bulino Quindi andrete proprio a graffiare manualmente Tutti i segni della china Se invece, come me questa volta Essendoci 40 gradi all'ombra Volete fare i furboni Userò Anche la possibilità Di creare delle vere e proprie scalanature Nel cotto E quindi creare dei disegni Che abbiano anche una sorta di tridimensione Che siano ben incisi all'interno del cotto Più del segno del bulino Per sigillare il tutto Userò del normalissimo vernilass Ma potrei usare anche una normalissima Vernice peracridica trasparente Lucida Così come si possono usare Delle resine trasparenti A mo' di finitura Sinceramente io non so cosa darò Come finitura finale Scopriteli insieme stando con me O questa o la resina E poi ci occorrerà anche il compasso E poi ci occorrerà ovviamente Una matita Qualora volessimo tracciare Un disegno particolare Sul nostro piattino Iniziamo subito Come prima cosa Diamo un paio di mani di china Sul piattino Prima spolveriamolo E poi semplicemente Intingendo il pennello Coloriamolo ben bene Potete farlo anche con i colori acrilici Unica cosa è che rimarranno più gommosi E quindi al passaggio del bolino Potreste strappare una porzione Più ampia di quella Che vi eravate prefissati La china sul cotto Essendo questo un cotto trattato Un cotto industriale Da prima sarà riluttante all'aggrappaggio Poi non vi preoccupate Perché dalla seconda passata In poi Aggrapperà perfettamente E non se ne andrà più Quindi Passo su tutto Faccio anche i bordi esterni Lascio asciugare perfettamente Asciugata la prima passata Rivado con la china Con una seconda passata Più copiosa E lascio asciugare Do la terza e l'ultima passata Una volta asciutto Prendiamo il compasso E dividiamo all'interno Gli spazi Potete dividerli O casualmente Oppure seguendo La logica di un disegno Che avete precedentemente Buttato giù Su un bozzetto Io faccio dei cerchi Concentrici E poi su quelli Svilupperò Il mio disegno Voi sicuramente Non li vedrete Ma vi assicuro Che ci sono Bene Adesso ci sono Due vie Per iniziare Innanzitutto Posso cominciare A fare un disegno Come questo In maniera lineare Tipo zentangle Diciamo così Facendo sviluppare Tutto il mio disegno Con la matita Quindi Faccio una croce Creo Delle foglie Cosa posso fare Quindi O partire così Con il bulino Piano 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 Raschiare Tutta la mia china E Far venire fuori Di nuovo il cotto Così In maniera Veramente Molto Molto Artigianale Voilà Quindi Stando molto tempo A lavorare Su tutte le forme Che ho creato Oppure Ma questa è un'ottima soluzione Per chi Per esempio Non ha Uno strumento Come questo Io per intenderci Così Ho fatto tutto questo Qua Ma adesso Per sbrigarmi Prima Userò Con una punta A pallina Piccola Che oltre al segno Che oltre al segno Dà anche uno spessore Di incisione Molto molto bello Che mi piace Da vedere Se voglio praticare Dei segni Sottili Cambio la punta E prendo Così Una punta A penna Come questa Per creare Dei segni Appunto Lisci Bene Cancellato Tutto Quello Che ho fatto Con un colpo Di china Quindi La dimostrazione Che così Ve ho fatto Saltualmente Anche perché Avevo calcato Veramente Leggermente Adesso Vado a fare Quello Che ho Intenzione Di fare Preparo Una serie Di punte Tonde Di diverse Dimensioni Piano Piano Creo Il mio Decoro Comincio Con una punta Tonda Più Grossa Quando dovete fare Dei fori Un po' Più Largi Come questi Vi consiglio Prima di insinuarvi Con la punta Piccola E poi Continuare Con la punta Grossa Grossa Perché Sennò La punta Slitta E si Fanno Queste Brutture Che adesso Io Correggerò Alla fine Non si Vedranno Però Perché farle Se si Può Evitare Sin da Subito E allora Prima si Comincia Con la Puntina Piccola E poi Su di Quella Si Prosegue Con la Punta Più Grossa Come Vedete Inserirsi Col buco Già Tracciato E molto Più Semplice Adesso A pennello Ripuliamo Perfettamente Tutto Perché Adesso Dobbiamo Fare Gli Aggiustamenti A china Cioè Tutti Quei Graffi Che Abbiamo Fatto Lavorando Con Il Dremel Come Li Sistemiamo Prendiamo La Nostra China Un Pennello Sottilissimo Da Poco Conto E Andiamo A Ripristinare Il Passaggio Della China Lì Dove Abbiamo Combinato Un Piccolo Guaio Per Verniciare I miei Piattini Userò La Resina Perché Non Soltanto Renderà Lucidi Piattini Ma Soprattutto Li Isolerà E potrò Usarli Anche A modi Svuotatasche Senza Senza Paura Che Salti Parte Della Pittura Questa Resina Si Combina Con Componente A100 E Componente B 60 30 Grammi Di Componente A 18 Grammi Di Componente B Mescoliamo Bene Bene Il Tutto E Verso Direttamente Wow Che Bello Sul Piattino Prima In Uno Ok Adesso Lasciamo Asciugare Per 24 Ore Dopo Vi Faccio Le Foto E Noi Ci Vediamo Subito Dopo Ciao Avete Visto Questo video vi è piaciuto Incidetevi un bel pollice in su Condividetelo sulle vostre pagine facebook E soprattutto Non mi lasciate qui da sola Venite a trovarmi anche per il prossimo video Vi aspetto su instagram Sui miei altri canali Due cuori una cappa e ombretta E come vi dicevo prima Vi aspetto sempre qua Per nuove idee creative Da ombretta E da arte per te Tutto Alla prossima volta Ciao Ciao